lucia no no scusa aspetta perché ho due nomi allora lì ho dato matta e allora mi sono matta lucia brescia provincia campagna esatto guardi della campagna mi piace di più il profumo del fieno dell'erba tagliata di solito lo tagliano al mattino con la rugiada e allora l'erba è profumatissima ma io deus sono anni che lo adopero che io lavo la roba dei miei nipotini e che resta fresca e anche quando ce l'hanno su magari che le viene un pochino di rutino la stoffa non manda odore che si muove anche la lavatrice perché c'è dentro deus grazie a tutti